trovi il blog di voce delle chiese sul sito www.rbe.it apriti museo accessibilità comunicativa patrimoni culturali e non è il titolo di un film di come potrebbe sembrare ma invece il titolo di una giornata di formazione organizzata dalla fondazione culturale centro culturale valdese di torrepellice proprio insieme al museo valdese nell'ottica di promuovere le tante attività legate all'accessibilità del museo che sono state portate avanti in questo in questo decennio potremmo in effetti dire e chiedo conferma la mia ospite nicoletta favut che con noi ciao nicoletta intanto e bentornata ciao daniele grazie mille e buona giornata a tutti e tutte in ascolto sono più di dieci anni che lavorate sul tema dell'accessibilità del museo allora quasi quasi 2014 per cui quasi dieci anni però sì possiamo cominciare a parlare di un decennio compreso il periodo precedente in cui ci siamo fatti le prime ipotesi di progetto ed è un percorso che dicevamo proprio fuori fuori onda poco fa insieme a nicoletta un percorso molto particolare perché si si parla di diversi tipi di accessibilità dei musei sicuramente un tema non solo del museo valdese di torre bellice ma un tema importante che ha preso piede giustamente in varie tipologie ecco di accessibilità sicuramente il tema delle barriere architettoniche l'accessibilità per persone ipovedenti non vedenti però voi vi siete concentrati invece su un modo una tipologia comunicativa che quella della comunicazione aumentativa alternativa la c a a forse l'avrete già sentita come come acronimo ed è una modo di comunicare attraverso le immagini si direi la cia è quasi un mondo ci sono le immagini c'è l'uso dei simboli c'è tutta una serie di rinforzo visivo ma è soprattutto un approccio all'idea che il linguaggio verbale noi parliamo tanto parliamo spesso spesso in concetti astratti e non è un linguaggio così universale o comunque non così universalmente percepibile per cui il diritto a essere accolti e il diritto a poter comunicare o comprendere la comunicazione stampa alla base di questo progetto per cui che si sviluppa non solo su persone che possono avere disabilità specifiche o usare prevalentemente i metodi della c a per comunicare nella loro vita quotidiana che sicuramente sono il focus di questo progetto però man mano che ci abbiamo lavorato ci siamo resi conto come chiunque di noi in fasi diverse della vita o in situazioni diverse e anche in contesti nuovi quindi musei mai visti adesso parliamo di musei perché siamo quello il nostro punto di partenza può sperimentare piccoli o grandi situazioni di disagio in cui non riesce a comunicare non riesce a comprendere non riesce a essere accolto ci sono delle barriere di vario tipo e quindi per noi è diventato iniziato come progetto per un gruppo di visitatori che sembrava molto specifico è diventato già dai primi anni l'occasione per ripensare completamente il modo con cui noi trattiamo la nostra comunicazione per tutti i nostri pubblici certo ma in effetti l'idea di accoglienza in generale quindi un museo accogliente ma anche una città accogliente senza le barriere architettoniche alla fine è accogliente per tutti cioè al di là diciamo di impedimenti psico fisici che uno possa avere certo per alcuni lo è molto di più però lo è davvero per tutti ed è un po questo il concetto di aprirsi aprirsi anche appunto a chiunque abbia necessità particolari avete pensato a questa giornata appunto dal titolo apriti museo nicoletta ci ha portato anche una locandina da far vedere una giornata prevista per sabato primo aprile contenuta nel senso che inizia al mattino prosegue fino alla sera un'ata ricca ecco di noi avevamo organizzato un convegno di cui anche la radio aveva parlato nel 2018 ed era già un po il voler fare il punto di quello che avevamo fatto fino a quel momento e includendo anche altri musei altre esperienze museali in italia che avevano fatto un lavoro sulla comunicazione aumentativa poi siamo andati avanti il corvedì ci ha spinto un po in altre direzioni quindi abbiamo sviluppato il progetto in maniera anche differenti e abbiamo creato altri materiali per cui ci sembrava necessario rifare un po il punto e nel frattempo la collaborazione con la diaconia valdese col servizio di comunicazione aumentativa alternativa dell'uliveto che per lunghi anni è stato il nostro consulente proprio sulla base di queste nuove riflessioni dall'anno scorso è diventato partner per cui cerchiamo di portare avanti questo progetto come due enti collaborativi infatti sono i due enti che organizzano questa giornata eravamo partiti con l'idea facciamo una breve presentazione del progetto al punto in cui siamo arrivati rispetto ai materiali tutta l'implementazione gli ultimi lavori dentro il museo e poi la situazione c'è un po sfuggita di mano nel senso che abbiamo pensato in realtà che avevamo molto di più che avremmo voluto dire quindi abbiamo differenziato sono e tutta la giornata e sono tre momenti anche un po diversi per persone un po diverse con obiettivi diversi per cui ci si può incrociare intersecare ma abbiamo pensato di differenziare si può anche scegliere un momento specifico della giornata a cui partecipare quindi volendo sì esatto nel senso che per esempio la mattina abbiamo proposto proporre proporremo un momento di laboratorio molto sensoriale molto pratico proprio per operatori di musei cioè abbiamo pensato questa è un'esperienza che noi abbiamo fatto negli anni la presenteremo a fine giornata in un momento più formale anche frontale abbiamo pensato che volevamo anche aggiungere un momento in cui far provare proprio sensorialmente sulla propria pelle che cosa può essere la disabilità o la barriera comunicativa su vari livelli per cui la mattina però l'abbiamo pensata per operatori museali in modo che poi ci permetta anche di confrontarci con colleghe e colleghi sulle esigenze che altri contesti museali possono avere o sull'esperienza sui materiali che noi abbiamo usato e quindi questo è il laboratorio del mattino il primo pomeriggio il museo sarà aperto invece agli insegnanti di qualsiasi ordine grado in particolare volendo agli insegnanti di sostegno ma ripeto non solo perché poi molto spesso è tutto il corpo docenti che può anche essere coinvolto in un lavoro sulla parte comunicativa anche rispetto a quello che il museo può offrire alle famiglie che magari si occupano già si rivolgono già ai servizi territoriali perché hanno dei membri della famiglia che usano la comunicazione aumentativa alternativa in maniera prevalente e quindi volevamo riuscire ad aprirci come come museo per cui ci saranno un paio d'ore di apertura gratuita e con visite guidate in cui metteremo a disposizione tutti i materiali e gli strumenti che abbiamo realizzato finora sia per farli vedere al di fuori di magari visite guidate dove è più facile sperimentarli sia per chiedere anche la disponibilità alle persone che vengono e le provano di darci un feedback perché alcuni materiali sono un po' nuovi per cui ci raccoglieremo molto volentieri i commenti di chi viene abbiamo provato a usare questo materiale ha funzionato o non ha funzionato e questa è la mattinata diciamo no scusa questo è già il primo pomeriggio questo è il momento dalle due e mezza alle quattro e mezza sulla locandina lo vedete sono tre momenti differenti eccolo qua ed è un momento appunto aperto grandi e piccoli famiglie non deve essere per forza qualcuno che usa in specifico che sa già che cos'è ma certamente chi la usa è anche a maggior ragione il benvenuto per aiutarci a capire se abbiamo tarato bene i strumenti oppure no e poi l'ultimo momento è quello delle 17 in cui invece facciamo un qualcosa di un po più mini conferenze diciamo una presentazione di progetto e quindi un po più istituzionale un po più formale in cui raccontiamo quello che si è visto in museo quindi raccontiamo facciamo un riepilogo di cos'è stato il progetto del museo in questi anni e di quali vorremmo fossero i progetti futuri perché ne abbiamo già in cantiere alcuni abbastanza importanti per noi e poi avete anche ottenuto un riconoscimento importante abbiamo riconosciuto un riconoscimento importante noi abbiamo sempre cercato di dialogare con isaac italy che è l'associazione italiana che si occupa della comunicazione la sezione italiana dell'associazione internazionale che si occupa della comunicazione aumentativa alternativa e che alla quale abbiamo presentato il progetto e che ha riconosciuto il nostro museo come un museo altamente comunicativo quindi diciamo che è stato un riconoscimento per noi anche bello nel senso che il tentativo che stiamo facendo e che non è finito è quello proprio di andare in questa direzione di cercare di essere più comunicativi possibili quindi insomma una giornata ricca noi rifacciamo un riepilogo ecco di quello che che sarà proposto abbiamo detto sabato primo aprile questa giornata che inizierà alle 10 prima mattinata dalle 10 alle 12 e 30 con questo workshop sensoriale al museo valdese l'iscrizione obbligatoria nicoletta l'abbiamo ricordato dove bisogna iscriversi scrivete alla fondazione all'ufficio il barba quindi il.barba chiocciola fondazionevaldese.org o telefonateci 0 121 95 0203 e poi si prosegue primo pomeriggio visite sperimentazione dei materiali degli strumenti che il museo ha già adottato e che metterà appunto a disposizione nelle varie sale del museo valdese e poi dalle 17 alle 18 e 30 un momento un po' più diciamo così di conferenza ma che poi in realtà prevederà anche sicuramente un momento per dialogare per confrontarci in cui si presenta proprio il lavoro fatto finora aperto a chiunque a chiunque fosse interessato all'iniziativa l'unica cosa che chiediamo appunto è l'iscrizione obbligatoria per il laboratorio del mattino perché abbiamo posti limitati e dobbiamo poter organizzare perché sarà molto dinamico mettiamola così e quindi non è solo una presentazione più teorica mentre per gli altri momenti è gradita sempre ovviamente la segnalazione ma è molto libero e io vorrei ricordare anche che il momento del sì quello delle cinque è proprio l'occasione per noi per confrontarci con un po' più di calma sul spiegare cosa abbiamo fatto qui in questo momento spiegando le varie tappe e dialogando con tutte le domande che potranno venire grazie alla disponibilità e alle competenze di una serie di persone che fanno parte di un gruppo di studio che noi come fondazione abbiamo in questo momento proprio su Musee CA ci saranno altre due interventi che ci daranno anche uno sguardo un po' sulla situazione nazionale e internazionale per collocarci anche noi partiamo dal nostro caso specifico ma appunto come dicevi tu all'inizio non siamo i soli e nel contesto soprattutto internazionale questa è una tendenza che c'è molto per cui si prende spunto, si condivide, certo tantissimo materiali, informazioni e a nostra volta cercheremo di condividere questo progetto anche all'estero perché è un'esperienza che ci può arricchire e riuscire anche a capire confrontandoci con altre sedi quindi ricordiamo apriti museo sabato 1 aprile se siete interessati, incuriositi anche solo se volete saperne di più potete partecipare troverete peraltro la locandina sul sito fondazionevaldese.org quindi insomma se volete andare a riprendere alcuni orari, alcuni appuntamenti che adesso vi sono un po' sfuggiti li ritroverete sul sito fondazionevaldese.org io ringrazio Nicoletta Favut che è stata con noi e auguro buon lavoro a te, a tutto il gruppo insomma del Museo Valdese della Fondazione Centro Culturale Valdese non solo in vista del primo aprile ma insomma per questo lavoro e questi lavori che portate avanti di apertura proprio sempre maggiore delle nostre, anche del nostro patrimonio anche in qualche modo allora è quello che cerchiamo di fare, io ringrazio te per questo spazio e ringrazio chi ci ha ascoltato e invito anche tutti se non il primo aprile, senz'altro primo aprile ma comunque alle tante altre iniziative ma anche provare a venire a vedere il museo perché tutti i materiali che abbiamo cercato di implementare sono sempre presenti in museo per cui dovrebbe essere proprio un'occasione di una visita qualsiasi di capire quanto è diventato accessibile col lavoro degli ultimi anni quindi approfittiamo dell'appello che lancia Nicoletta e partecipiamo alle attività grazie, buon lavoro grazie